Fernando. Il commissario tecnico del Portogallo Fernando Santos è tornato a parlare in conferenza stampa del caso Cristiano Ronaldo alla vigilia del quarto di finale del Mondiale di Qatar 2022 contro il Marocco. Santos si è confermato in primo luogo sulle voci di un suo presunto litigio con l'ex attaccante di Juve e Manchester United prima della sfida contro la Svizzera. Quando il giocatore ha scoperto di non essere titolare. Santos, Ronaldo non era soddisfatto di non giocare. Ma è normale di solito le formazioni le annuncio ai giocatori solo allo stadio. Prima della partita. Ho sempre fatto così, ma questa volta ho parlato prima con Ronaldo. È il capitano della squadra, è qualcuno che ha dato tanto e dovevo avere quel faccia a faccia con lui. E' successo il giorno prima della partita a pranzo, nel mio ufficio. Non avevo mai parlato con Ronaldo prima da solo. Ho detto, Cristiano, non ti farò partire titolare, ma penso che sarai comunque molto importante durante la partita. Era soddisfatto? Chiaramente no, ha sempre giocato titolare ed è normale. Ma è stata una conversazione normale e rilassata. Santos, Ronaldo non mi ha mai detto di voler lasciare la nazionale. Santos ha smentito le minacce di Ronaldo di lasciare il ritiro della nazionale, non mi ha mai detto. In nessun momento di voler lasciare la nazionale. È ormai diventata una moda attaccare Ronaldo. Eppure lui era quello che tifava più di tutti in panchina, ha esultato per tutti i gol. Lasciate in pace Ronaldo. Sul Marocco, sono una squadra molto ben organizzata. Con talento, hanno creatività e sono molto forti a livello collettivo. Sarà molto difficile per noi. Ma sarà molto difficile anche per il Marocco. Virgola 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 Virgola